Lavoro, trasporti e barriere architettoniche, questi gli ostacoli con cui ancora si scontrano le migliaia di persone con disabilità che vivono in Toscana, ma i primi muri da avvalicare, a dire il vero già intaccati, sono quelli sul piano culturale e dei diritti. Di questo si è discusso nel corso della conferenza regionale sulla disabilità alla fortezza d'abbasso di Firenze. Sul tavolo i progetti che fanno della Toscana una delle regioni più avanzate nel sostegno alle persone disabili, come il bando del Fondo Sociale Europeo per l'accompagnamento al lavoro, finanziato con 15 milioni di euro, le sperimentazioni su nuovi modelli abitativi, il Fondo per la vita indipendente e i bandi per eliminare le barriere architettoniche. Obiettivo dei progetti discussi in conferenza, creare una rete tra le tante associazioni che si prendono cura dei disabili e le istituzioni regionali. Abbiamo costruito un percorso che si attuerà in tutte e 34 le zone sociosanitarie della nostra regione per la presa in cario della persona con disabilità, quindi l'ascolto, la presa in cario della persona, i suoi bisogni e la traduzione in un percorso assistenziale chiamato percorso di vita. Uno dei nodi principali resta quello dei trasporti, troppi gli ostacoli, dai gradini per salire e scendere sui mezzi pubblici agli ascensori che non funzionano o che a volte mancano del tutto. Quello su cui stiamo lavorando e il dibattito in queste ore è proprio su questo, di creare reti di accessibilità, cioè non è pensabile, abbiamo magari il treno perfettamente accessibile a quota a marciapiede se poi fuori della stazione abbiamo forti ostacoli architettonici e di altra natura. Tra le iniziative approvate dalla regione in materia di disabilità anche un progetto sulla gestione delle emergenze di protezione civile per rendere i piani da attuare in caso di calamità adatti alle esigenze di chi ha difficoltà di movimento.